Allora, non do da dirvi niente, facciamo il discorso. Ma sei ancora una miniatura che mi ha fatto? Non è spento il microfono. No, non è spento! Madonna! Che state dovendo fare? Un buon caffè non è successo assolutamente niente. Un'ora e mezza per un caffè è lungo. Sì, abbiamo costato per bene. Grazie, buona giornata!